Ragazzi io sono terrorizzato, trovo oltraggioso le parole della Garda che ha detto le persone anziane vivono troppo, c'è un rischio globale per la comunità, per i giovani poi c'è questo spot qua che fa veramente pensare, sentite un po' cosa dice praticamente gli anziani dicono che hanno vissuto abbastanza e devono pensare ai giovani abbiamo avuto una buona vita, diamo l'opportunità anche ai giovani di vivere speriamo che sia la prima la la Garda, visto che c'è una certa età, a lasciare il posto ai giovani questi dicono tutte, ho avuto agenda 2021, arriverà presto, allucinante